ciao ragazze oggi sono qui per raccontarvi di due ricette facili e veloci per quanto riguarda la pelle grassa sono segreti di bellezza molto funzionali provateli vi propongo due oli purificanti applicateli sulla zona t del viso fronte naso mento preferibilmente alla sera e massaggiate delicatamente la vostra pelle troverà poco a poco il suo equilibrio vi consiglio di utilizzarlo finché non otterrete una pelle perfettamente pulita ingredienti 50 ml di olio di sesamo 25 gocce di olio essenziale di tea tree 12 gocce di olio essenziale di vetiver 12 gocce di olio essenziale di geranio rosa oppure potete anche fare 40 ml di olio di sesamo 10 ml di olio di germe di grano 5 gocce di olio essenziale di ginepro 15 gocce di olio essenziale di olio essenziale di vetiver e di tea tree si dimostrano molto utili contro l'acne e sono ideali per le pelli grasse l'olio essenziale di ginepro ha proprietà antisettiche mentre quello di cipresso richiude i pori questi due oli entrano in sinergia e formano un olio di bellezza veramente efficace l'olio di sesamo è importante per pelli grasse perché penetra rapidamente nell'epidermine e non lascia nessun velo di grasso rigenera e riequilibria la pelle questi sono i miei segreti di bellezza lasciatemi un commento e un like se vi fa piacere seguitemi sul canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornate io tornerò domani con un nuovo video ricetta sempre con consigli molto utili ed efficaci per la vostra bellezza al naturale ciao ciao